L'Isola dei Famosi 2018 semifinale, doppia eliminazione e clamorosa sorpresa? Stasera in Prime Time su Canale 5 andrà in onda l'attesa semifinale dell'Isola dei Famosi 2018 condotta da Alessia Marcuzzi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati spettatori del reality show Mediaset, i quali attendono di sapere il nome del prossimo eliminato che dovrà lasciare il programma e soprattutto i nomi dei concorrenti che potranno accedere alla finalissima in programma il prossimo lunedì 16 aprile su Canale 5. . Stasera doppia eliminazione dalla semifinale dell'Isola dei Famosi? Le anticipazioni ufficiali sul cancelletto Isola dei Famosi 2018 rivelano che l'eliminazione prevista in questa semifinale riguarderà uno tra Alessia Mancini e Jonathan. . Sono loro i due concorrenti che in questi giorni si stanno sfidando al televoto e che stasera attenderanno il verdetto finale che sarà letto dalla conduttrice Alessia Marcuzzi. Chi dovrà lasciare l'Isola ad un passo dalla finalissima? Ricordiamo però che il concorrente eliminato da questa puntata dovrà vedersela al televoto contro le due concorrenti che risultano sospesi dal gioco. . Stiamo parlano di Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, questa sera, infatti, uno solo dei tre potrà proseguire il suo percorso sull'Isola e quindi accedere alla finalissima. . Clamorosa sorpresa per i concorrenti dell'Isola Questo vuol dire che nel corso della semifinale dell'Isola di stasera 9 aprile dovrebbe esserci una doppia eliminazione dal reality show. Nel corso della puntata, però, non mancheranno i colpi di scena e soprattutto i confronti tra i naufraghi che sono rimasti in gara. . Anche questa settimana, infatti, non sono mancate le polemiche e gli scontri tra i concorrenti che rendono tutto più pepato in vista del gran finale di questa edizione. . Le anticipazioni sulla semifinale dell'Isola 2018 in onda stasera 9 aprile in tv, inoltre, rivelano che per i naufraghi ci sarà una sorpresa clamorosa ma al tempo stesso molto attesa. . Dopo circa due mesi e mezzo di permanenza in spiaggia, i concorrenti avranno la possibilità di rivedersi allo specchio. . Questa sera, quindi, ci sarà l'attesa prova dello specchio, durante la quale i naufraghi potranno notare e prendere atto dei loro cambiamenti fisici dovuti alla fame e alla patenza di cibo che hanno sofferto in queste difficili settimane di permanenza all'Isola. . Chi avrà perso più chili tra quelli rimasti in gara? Lo scopriremo questa sera in diretta tv su Canale 5. . Cancelletto Isola dei Famosi Cancelletto Isola dei Famosi. . 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